Assolutamente no, la Lega Nord e noi con Salvini lo ha detto chiaramente in aula anche in questa ultima dichiarazione di voto, l'Italicum è una legge che non ci piace non voteremo e voteremo ovviamente contro nel voto finale e soprattutto ci sorprende il fatto che Renzi abbia questo piglio, questo decisionismo solo sulla legge elettorale che di certo è l'ultimo dei problemi degli italiani. Noi oggi vorremmo che il Parlamento si occupasse delle esigenze del popolo italiano, primo fra tutti quello dell'occupazione basta guardare i dati Istat di oggi che confermano il fallimento delle politiche di Renzi e di questo governo.